Al Rimini Off-Road Show non potevamo non parlare con un rappresentante di quello che è uno dei marchi più conosciuti in assoluto per quanto riguarda il mondo del fuoristrada. Stiamo parlando naturalmente di Suzuki, alle nostre spalle c'è un Jimny, una delle vetture iconiche del marchio giapponese, ma non solo. La presenza di Suzuki qua al Rimini Off-Road Show fino a domenica è davvero importante. Cominciamo appunto a parlare perché uno spettacolo off-road è così importante per Suzuki. Sì, noi quando si parla di fuoristrada e di SUV e di passione, Suzuki deve esserci, deve essere in grado di incontrare i suoi appassionati perché noi siamo là dove la passione per il SUV c'è e oggi in questo contesto mi pare che siamo esattamente dove siamo legittimati a essere presenti. Sono tanti i modelli di Suzuki che hanno a disposizione una trazione integrale degna dei percorsi più difficili. Parliamo dell'S-Cross, della nuova Vitara che si vede sempre di più in giro. Assolutamente sì, come dicevo prima oggi noi siamo presenti con piacere con quattro modelli della gamma All Grip che è il marchio tecnologico che identifica le vetture 4x4 di Suzuki, il marchio All Grip oggi si differenzia secondo tre differenti possibilità di utilizzo. Abbiamo il marchio All Grip Auto che identifica le vetture Inis e successivamente anche la nostra nuova Swift che è una tecnologia grazie ad aggiunto viscoso che inserisce trazione nell'asse posteriore quando viene percepito una differente rotazione tra gli assali. Abbiamo l'All Grip Select che equipaggia la Vitara e l'S-Cross che sono due modelli di grande successo e come ha detto lei effettivamente Vitara oggi è una vettura che sta riscuotendo grande successo di pubblico tra i nostri consumatori e non solo. Il Grip Select ha la possibilità da parte del guidatore tramite un controllo elettronico a selezionare quattro differenti tipologie di 4x4 o in modalità automatica quindi garantisce il sistema garantisce l'inserimento della trazione posteriore quando c'è bisogno per motivi di sicurezza. La modalità Sport che garantisce un surplus di trazione e di handling quando si richiede il massimo delle performance dalle nostre vetture. Il sistema Snow che come dice lo stesso termine ovviamente garantisce la massima trazione su fondi più, su fondi elevati o comunque da bassa aderenza e il sistema LOC che insieme al Threshold Controller LSP garantisce la possibilità di superare qualsiasi situazione di imprevista o di fondo particolarmente scivoloso e garantire il superamento di qualsiasi ostacolo. Sopra i 60 km all'ora poi viene disinserito automaticamente e entra in funzione nuovamente la modalità Snow. Quindi questo è quanto riguarda l'All Grip Select e poi il massimo esponente della tecnologia All Grip è ovviamente il nostro Shinsei con l'All Grip Pro. La stessa parola sta a identificare la tecnologia evoluta che adotta il nostro Gimni che abbiamo qua alle nostre spalle. È una tecnologia quindi con 4x4 inseribile manualmente e con riduttori di velocità. In questo caso quindi la possibilità da parte del guidatore di inserire 4x4 e garantire la massima coppia su tutte e 4 le ruote e garantire quindi qualsiasi superamento e qualsiasi superamento dell'ostacolo e il massimo del divertimento sull'offroad. Poi per chiudere forse non sarà considerata un fuoristrada in senso stretto però sta per arrivare l'abbiamo appena vista a Ginevra sta per arrivare la nuova generazione della Suzuki Swift che è assolutamente in argomento perché avrà ovviamente anche l'All Grip. Assolutamente sì come da tradizione per Swift anche la nuova Swift avrà la tecnologia All Grip. In questo caso parliamo di All Grip Auto quindi la tecnologia che oggi adotta anche il nostro modello l'ultimo lanciato Suzuki Ignis. Il 4x4 arriverà in Italia dopo l'estate a settembre ma chiaramente per noi rappresenta una continuità rispetto al modello precedente perché molti nostri clienti hanno scelto anche Swift per questo tipo di caratteristica che la rende di fatto unica sul mercato perché non esiste un concorrente che offra il 4x4 sotto i 4 metri in una vettura compatta del segmento B. Questo è un nostro unicum in termini di offerta insieme alla Suzuki Ignis ci rende di fatto la vera l'unica possibilità di scelta per un cliente che desidera avere la tecnologia 4x4 in questo caso la nostra All Grip Auto su una vettura compatta. Benissimo e noi sicuramente non mancheremo di provarle di testarne tutte le caratteristiche. Vi aspettiamo le nostre vetture sono a vostra disposizione per qualsiasi test. perfetto e naturalmente anche al nostro le approveremo prestissimo non appena sarà a disposizione per la stampa per il momento dal Rimini off-road show è tutto però il show lo spettacolo continua fino a domenica qua è un vero paradiso per tutti gli appassionati del fuoristrada ma naturalmente tutti i dettagli e tutte le novità le potrete trovare su motori online alla prossima prova